Quella non è... Sorpresa! Vi ricordate di lei da quest'estate? Ma certo! È la miglior make-up artist di sempre! Oh, grazie! Barbie e Barbie, ho sentito che state per realizzare il miglior look da spiaggia. Serve l'aiuto di una professionista. Oh! Sì! Torniamo subito! La cosa più importante per un make-up da spiaggia? La crema solare! Mmm, cocco! Subito dopo, un velo di lucidalabbra con filtro solare. Dà un tocco di freschezza e protegge dal sole. E ora, per completare il look... Questo era il nostro video. Preparati con me, edizione look da spiaggia. Grande collaborazione! E che energia, ragazze! Abbiamo finito! Oh, volevo dire... Ben fatto, Barbie e Barbie. Grazie, guardaroba dei sogni. Tutto questo è decisamente più forte delle maracas. Potrebbe essere che ci sia arrivata voce che volevate realizzare questo video. Potrebbe essere che abbiamo invitato la nostra amica fashion designer per darvi una mano. E visto che potrebbe essere, lei è qui! E io potrei esserne stata così entusiasta da invitare le amiche fashionista. Grazie alle vostre sorelle. Non vedo l'ora di vedere il vostro nuovo video. Beh, cosa stiamo aspettando l'inverno? Creiamo un'atmosfera estiva! Questo look mi ha dato una carica di energia. Il divertimento dell'estate è assicurato. E poi il mio look mi ricorda il sole dell'estate! Mi sento così radiosa! Ecco perché amo il mio lavoro. Posso essere creativa e portare energia positiva nel mondo. Energia. Essere l'energia... È l'energia... Da qualche parte. Va tutto bene, guardaroba dei sogni. Aspetta! Guarda! Wow! Quegli abiti sono pazzeschi! Sono solo diversi dai nostri look. Se non sono per noi, allora... Per chi? A proposito di strana energia. Hai ragione, Chelsea. C'è bisogno di nuova energia. Di recente abbiamo creato un'atmosfera positiva attraverso i look, la moda e gli amici. Ma qualcuno di voi ci ha chiesto come cambiare atmosfera in base alle circostanze. Ecco perché organizzeremo un pigiama party. Niente di meglio per cambiare atmosfera completamente. Passeremo dal giorno alla notte con... Le mamme le cute TV! Sì! Lo so, sembriamo davvero carine ora. Ma se passassimo da cuccioli molto carini a cuccioli molto alla moda... Sei pronta? Sempre! Wow! È una bomba! Un cambio look fashion! Questi look si aggiudicano la passerella! Sì! Se Miss Barbuncina è d'accordo? Voglio dire... Ci mancherebbe! Sono davvero incredibili! Sono davvero forti!